L'espansione verso Levante dell'anticiclone delle Azzorre protegge il centro e il sud della nostra penisola dal transito delle perturbazioni atlantiche, mentre il nord Italia risente del passaggio dei sistemi frontali sull'Europa centrale. La situazione rimarrà pressoché invariata fino a mercoledì, quando una saccatura di origine atlantica tenderà ad approfondirsi, determinando condizioni di maggiore instabilità anche sul centro Italia. In Toscana, lunedì 4 luglio, sereno, poco nuvoloso, con locali avvenzamenti sulle zone di nord-ovest. Venti deboli da nord-est con locali rinforzi, rotazione ammaestrale sulla costa nel pomeriggio, mari mossi con moto ondoso in attenuazione, temperature in aumento sulla costa, in calo sulle zone appenniniche orientali. Bel tempo stabile su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana, temperatura minima 18, massima 32 gradi, in Versiglia e sul litorale minima 20, massima 28, in Garfagnone e zone montane, minima 15, massima 30 gradi.